Dopo il Ponte di Pasqua, un altro weekend lungo col 25 di aprile, avete qualcosa in programma? Siete di Fano? Sono norvegese, un programma particolare, ma mi piace stare qui a Fano per il tempo, è normalmente bene, ma oggi no. Le piace Fano? Sì, mi piace molto, però la città è non troppo grande, la gente è molto simpatica. Noi siamo già in vacanza tra l'altro perché siamo di Milano, siamo venuti qua in vacanza, però in particolare no, non penso niente, penso staremo. Girerete per la città? Sì, gireremo per la città, sì, sì. Le piace Fano? Sì, molto molto carina. È la prima volta che venite? Sì, sì, prima volta. Quindi anche il tuo amico, voi siete di Milano quindi? Sì, sì, siamo tutti e due di Milano e sì, siamo venuti qua in vacanza, siamo qua quattro giorni e niente, ci vediamo un po' i paesi che ci sono qui intorno. Ma è la scelta di Fano? Ma in realtà è successo tutto un po' a caso, semplicemente avevamo voglia di andare via per il ponte e niente, abbiamo scelto di venire qua. Abbiamo visto le foto, i posti su internet e siamo venuti qui perché comunque è una città molto bella. Cosa avete visitato finora? Siamo arrivati un'ora fa, quindi... Ah, quindi proprio freschi freschi. La piazza, un po' l'arco, quello di Augusto, è molto molto bello. E di dove siete? Di Svizzera. Vi piace Fano? Sì, sì, è molto bellissimo. Quindi è la prima volta, dove l'avete vista? Sul sito internet? Come avete fatto a ricercare Fano? Io conosco, sono già stato qua. Lei la conosce, quindi l'hai piaciuta e ha voluto rivisitarla? Sì, mi piace molto, è un bel posto. No, non mi piace. Quindi non avete preventivato nulla, magari una passeggiata con gli amici se il tempo permette? Se il tempo permette sì, però sempre a Fano, insomma, rimaniamo. Sì. Mi ricordo di andare a fare qualche passeggiata con gli amici, ai passeggi qua, a vedere un po' la città. Quindi nulla di particolare, insomma. Come gli altri weekend. Sì, sì, diciamo che sì. Lavoriamo, fortunatamente. Lavoriamo, fortunatamente. Lavoriamo, poi stiamo prendendo casa in affitto, quindi... Perché Fano è bellissima, abbiamo deciso di venire a abitare qua. Perché dove siete? Cattolica. Ah, quindi da cattolico, un romagnolo che viene a Fano? Sì, 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 è bellissima città. Come vi siete innamorati di Fano? Mi sono innamorata di lui. Lavoro qui. E quindi è venuto prima lui, poi Fano. Quindi avete anche le spese da fare, quindi non è il momento di fare dei viaggetti o quant'altro? Adesso, purtroppo no, più avanti sicuramente. Io sono a Milano a fare un corso per le unghie. Io penso che starò a casa perché avrò, diciamo, una tappa di un campionato domenica e quindi userò il lunedì per rilassarmi e per passarlo magari con i miei familiari e con la mia famiglia. Campionato di cosa? Di frisbee. Sei una giocatrice? Sì. E dove devi giocare? A Milano. Tu invece? Anche io penso che comunque lo passerò in modo molto rilassato perché comunque queste settimane di scuola sono state molto intense, soprattutto dopo le vacanze di Pasqua. Comunque abbiamo avuto molte interrogazioni e verifiche. Il mare, facciamo un giro, tanto ci organizzano un po' di cose al Lido. Cosa farete al Lido? Avete organizzato con gli amici? C'è il baretto oppure all'Arzilla. Non fare niente, gite fuori porta. No, questo weekend no. Credo che rimarrò qui a casa, a riposarmi, a fare qualche faccenda, a godermi la città, passeggiando in bicicletta e non ho programmi per ora. Quindi si gode un po' tutto? Meteo, che migliori. Vieni a farmi un'amica da Gubbio, quindi resteremo qui a Fano. Io e i miei compagni di classe andremo a Firenze, siamo nei compagni di liceo classico, quindi per fortuna abbiamo trovato qualcosa da fare. Quindi non lo so in realtà qui in città cosa si farà. E purtroppo abbiamo visto che il meteo era brutto dopo aver pronotato, quindi visiteremo la città, però purtroppo non c'era proprio il sole. Quanti giorni sarete via? Siamo due notti, due notti. Partirete da sabato? Siamo domattina e torniamo il 26. Siamo domattina e torniamo la città.